L'Italia blocca il rinnovo automatico delle sanzioni alla Russia e rompe il fronte europeo. Alla riunione dei rappresentanti permanenti dei paesi dell'Unione Europea, in cui era prevista l'approvazione del prolungamento delle sanzioni senza alcun dibattito, ieri il governo italiano, solo contro tutti, ha chiesto l'apertura di un dibattito politico, auspicato dal ministro Gentiloni, all'interno del summit dei capi di Stato e di governo il 17 e 18 dicembre prossimi. L'Italia non ha dunque chiesto l'abolizione delle sanzioni, che scadono alla fine di gennaio, ma ha preteso che i rapporti con Mosca vengano discussi al massimo livello. È strano che questa notizia, ovviamente di un certo rilievo, sia stata ignorata dai principali quotidiani italiani, nonostante il lancio dell'agenzia Reuters. D'altra parte, mentre Daesh si rafforza nella Sirte e il pericolo si sposta proprio sotto casa nostra, in seguito ai bombardamenti in Siria, il presidente del Consiglio Matteo Renzi sembra accogliere l'aiuto proveniente da Vladimir Putin e il ministro degli affari esteri russo Lavrov. Non so se al Baghdadi sia in Libia, ha dichiarato la stampa italiana Lavrov, ma abbiamo informazioni che Daesh è presente a Sirte, futura filiale di Raqqa, e ciò suscita preoccupazione. Era stato lo stesso presidente Putin in una conversazione con Renzi ad annunciare che la Russia è pronta a prestare aiuto. La strage silenziosa del Mediterraneo prosegue senza interruzioni, mentre i cittadini siriani, iracheni, afghani, in fuga da guerra e povertà, percorrono a piedi i Balcani con la speranza di una vita più dignitosa. La foto di Aylan ha spezzato i cuori, ma sono almeno 700 i bambini che hanno perso la vita nel Mediterraneo solo negli ultimi 12 mesi. Secondo la Fondazione Migrantes, da gennaio oltre 3.200 persone sono annegate nel tentativo di raggiungere le coste europee. Il vecchio continente guarda attonito, senza fornire risposte adeguate all'emergenza, e popoli interi fuggono dalla guerra che l'Occidente non ha voluto combattere fino in fondo, tra scelte ambigue e alleanze pericolose, con l'Arabia Saudita e gli altri sceicchi del petrolio in testa. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ritiene necessario sostenere la volontà della Bosnia-Herzegovina di entrare nell'Alleanza Atlantica. Allo stato attuale, la Nato punta all'ingresso nel blocco militare del Montenegro, della Bosnia-Herzegovina e della Macedonia. Anche la Georgia ha espresso il desiderio di aderire all'Alleanza Atlantica. Mosca ha reagito negativamente alla continua espansione della Nato, che ritiene un indebito assedio ai propri confini. Grazie. 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 Grazie.